Ciao a tutti Bene trovati in questa nuova puntata di The Wine Talk Andiamo subito al sodo Siamo in quarantena, siamo tutti in quarantena E quindi dobbiamo tenerci occupati Continuiamo questa analisi, questa nostra strada Nella via della degustazione Lo ricordiamo grazie al sacro libro dell'ICE La degustazione che vi viene fornito Ovviamente se frequentate il corso ICE L'altra volta abbiamo fatto, se non sbaglio, la complessità olfattiva Complessità olfattiva, l'abbiamo detto, il numero, in virgolette, di sentori che si sente Scusate il gioco di parole Oggi andiamo con la qualità olfattiva La qualità olfattiva è praticamente, detto in parole povere L'espressione di quello che sentite nel bicchiere O meglio, la qualità se il profumo che sentite nel bicchiere è un profumo sgraziato, spiacevole, poco nitido O se è elegante al naso Se è fine, appunto Andiamo a vedere la descrizione, come lo dice il libro ICE La qualità olfattiva è la sintesi del giudizio relativa all'intensità, complessità, ma anche la loro piacevolezza L'eleganza, le eventuali franchezze e tipicità Quindi, qualità olfattiva Partiamo dal principio Il primo step è comune Quando si parte, la base della piramide solitamente è il valore più negativo Quindi, comune Si dice di un vino con un profumo scadente e privo di qualsiasi pregio Che può anche presentare difetti e quindi essere sgradevole È una situazione inaccettabile Poco fine Si dice di un vino Scusate Con un profumo che rasenta la mediocrità e privo di piacevolezza Un vino che ha poco da offrire al naso Niente spicca, niente emoziona, niente fa battere il cuore Abbastanza fine Si dice di un vino con un profumo sufficientemente gradevole Di qualità discreta o buona Dotato di discreta intensità e di varie sfumature adorose La media dei vini che andrete ad assaggiare C'è qualche sentore più interessante, qualche sentore più fine Anche più nitido rispetto agli altri Che piace al naso, quindi si fa apprezzare Fine Si dice di un vino con un profumo buono o ottimo Raffinato, di buona intensità e spesso dotato di un apprezzabile correddo di sfumature adorose Questo è il livello superiore Quindi magari ci sono anche più sentori di qualità Che piacciono molto, che spiccano Uno porta il bicchiere al naso, lo roti, senti l'intensità, complessità Sì, è forte magari, è complesso perché sento tante cose E fra queste cose spicca un piacevole, non so, vaniglia Esempio Mora Per esempio Non per forza collegate queste due cose Sto facendo esempi così casuali Quando ce ne sono diversi si dà fine Eccellente Si dice di un vino con un profumo particolarmente elegante Dotato di grande intensità e con un ampio ventaglio di sfumature odorose Che possono mettere in luce anche un'ottima tipicità Qui parliamo di vini veramente grandiosi Vini rari, vini pregiati Vini che offrono già al naso uno spettacolo Quindi in bocca vi potete immaginare che ci sarà un bellissimo secondo Se questo è il primo La vista è l'antipasto L'olfatto è il primo Il gusto olfattivo, la bocca è il main È la portata principale Quindi se avete un vino con una caratteristica del genere Avete un vino che vi può far sognare Detto questo Io vi ringrazio Questo era tutto per la degustazione Seguitemi sui social Come sempre Non vi perdete Se lo avete fatto Rimediate subito Tutte le puntate di The Wine Talk Lo ricordo Ogni mercoledì alle 18 Noi continuiamo la degustazione Siamo quasi all'assaggio Eh ragazzi Dai ora Ciao da Francesco